In vista delle celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante e nonostante le restrizioni dovute al coronavirus, sono iniziati a Ravenna i lavori per la sistemazione della tomba del Sommo Poeta, come spiega il primo cittadino Michele De Pascale. È una lavorazione di restauro che impiegherà pochissime persone, quindi si è trovata la modalità per poterli svolgere ovviamente nel rispetto di tutte le norme. Era fondamentale partire perché a settembre inizieranno le celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri e dovevamo farci trovare pronti. Quella anzi sarà una grande occasione per Ravenna ma per tutta Italia per ripartire nel segno della cultura e del pensiero e dell'opera di Dante. Un'opera che era stata ricordata in tutto il mondo lo scorso 25 marzo in occasione della prima edizione del Dante Dì, la giornata pensata per celebrare il Sommo Poeta ideata dal giornalista del Corriere della Sera Paolo Di Stefano. Una prima edizione che per forza di cose si è dovuta celebrare in maniera virtuale e che ha coinvolto musei, archivi, artisti e decine di migliaia di studenti, tutti in collegamento online per celebrare il simbolo della cultura italiana.